Il gol che ho fatto contro l'Austria in amichevole che ho firmato il gol del 1 a 1 quindi il pareggio della nazionale contro l'Austria è stata un'emozione molto bella e sono rimasto molto soddisfatto anche dalla prestazione oltre che dal gol che al fine è ancora nato un'ottima prestazione direi Io cerco sempre di fare il meglio qua nel club e nell'Inter e spero sempre in ogni convocazione di essere chiamato e di essere presente e quindi è un obiettivo che mi pongo e spero di percorrere tutto il cammino per poi arrivare a nazionale maggiore ma intanto pensiamo ad oggi